Ok, qui mi sa che siamo nel quartiere expensive, cioè costoso, abbiamo Louis Vuitton di là. Mi sa che sarà un problema trovare qualcosa per cibarci, Chanel intanto, giusto per rimanere in tema. Mi sa che sarà un casino qui trovare qualcosa di Bulgaria, ah certo, Tiffany. Oddio! We are rich bitches!